Bene amici, arriva il decreto Flash Lampo Luglio, quindi Draghi e i migliori hanno finalmente trovato proprio ieri la quadra sulle novità che si abbatteranno sul nostro capocollo. Nel frattempo l'Inps lancia un progetto interessante mentre sonnecchia su quegli aiuti ancora bloccati, però oggi bonifici. Io sono Mr. Lul, sigla, prima mi raccomando un bel like per sostenere il video di canale e iscrivetevi con la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Partiamo! Quindi, decisione presa sullo sblocco dei licenziamenti. A partire infatti dal 1 luglio, adesso, finirà il divieto generalizzato. In sintesi, i settori in ripresa potranno riprendere con i licenziamenti, mentre lo stop con annessa cassa Covid resterà fino al 31 ottobre per i settori più in crisi, come tessile, calzaturiero, moda, pelletteria. Una decisione dell'esecutivo che arriva però in un momento dove la riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive è ancora in altissimo, altissimo mare, dove nessun tagliando è stato fatto, nonostante millemila proclami, al reddito di cittadinanza, e con una naspi ancora fondamentalmente ferma ai dettami renziani. Speriamo bene, quindi, ma chi vive sperando? Finite voi nei commenti, grazie. Troverà poi spazio, in questo nuovo decretissimo lampo flescissimo, anche l'estensione di due mesi, quindi fino al 31 agosto, del blocco delle cartelle esattoriali, con una proroga anche del termine per il versamento del saldo 2020 e a conto 2021 per imposte sui redditi e IVA per contribuenti ISA, compresi i forfettari. E attenzione perché viene gambizzato anche il cashback. Stop al 30 giugno è annullata, quindi, l'operatività del bonus per i prossimi sei mesi dell'anno. Ecco, queste sono in sintesi le decisioni prese ieri. Vedremo poi come saranno tradotte nel nuovo decretissimo, che arriverà appunto per forza a ore. Passiamo adesso velocemente alla cara IMS, o al caro IMS, perché oggi è giornata di bonifici per chi attendeva il bonus 1.600 euro e aveva data al 29. Purtroppo, invece, su sblocchi e riesami ancora non ho particolari novità, quindi l'IMMS è sempre lì che dice a giorni, a giorni risolveremo. Siamo però ancora in attesa di una circolare che chiarisca la confusione creata dal messaggio sull'assegno unico Ponte Figli in merito a chi deve fare domanda, chi no, se i percettori di RDC dovranno farla oppure no. Sapete che il decreto era molto chiaro, ma il messaggio era scritto coi piedi. Ma nel frattempo parte, anzi riparte, un progetto davvero interessante e nobile. che è IMS per tutti, so che suona come una minaccia, ma non è così. Si tratta infatti di un'iniziativa di inclusione sociale, per portare informazioni e attivare ai sussidi le fasce della popolazione più indigenti, più deboli, gli emarginati, quelli veri. Ed è per questo che l'IMSS ha sottoscritto un accordo quadro con ANCI, CARITAS, comunità di Sant'Egidio, al fine proprio di promuovere delle iniziative territoriali specifiche. Detto questo, come al solito, spero che il video sia stato interessante. Fatemelo sapere, mi raccomando, con un bel like. Iscrivetevi col campanone per non perdere le prossime novità. Se volete sostenere le attività del canale sapete che c'è da un po' anche il tasto abbonamento. Alla prossima, grazie. Da Mr. Lull.